Amici di Football is May Life, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi sono qua per fare il diario della 33esima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Allora, video che escio con un po' di ritardo, mi scuso, solo che in questo weekend c'era Pasqua, ieri era Pasquetta, c'era il Napoli che doveva giocare a Pasquetta, ero al mare, dopo sono arrivato a casa oggi che erano le 6 del mattino, insomma, non ho avuto modo per fare il video, però comunque ci tengo a farlo e lo faccio ora. Iniziamo dalla notizia della giornata che poi definire la notizia, direi che è assolutamente un parolone, ovvero la vittoria della Juve del suo 35esimo scudetto, nonché l'ottavo di fila, davvero complimenti a loro per quello che stanno facendo negli ultimi anni. Lotta per la Champions che vede poi l'Inter sempre al terzo posto. Dal quarto posto in giù la lotta è davvero accesa, più che mai, perché ci sono cinque squadre in cinque punti. L'Atalanta ha raggiunto il Milan al quarto posto, entrambe a 56, un punto più sotto c'è la Roma. A 53 poi c'è il Torino che ha scavalcato la Lazio, che è di un punto sotto ai Granata. Concludiamo poi infine con la lotta per la salvezza, dove c'è stato un balzo in avanti davvero molto importante della Spal e del Bologna. L'Udinese guadagna un punticino sull'Empoli terz'ultimo e quindi direi che qua il quadro sia abbastanza delineato, dato che il Bologna è a più 5, l'Udinese a più 4. Settimana prossima c'è Bologna e Empoli. Se il Bologna vince direi che mette assolutamente le cose in chiaro nella lotta per non retrocedere. Detto della classifica vediamo poi un po' come sono andate le cose partita dopo partita. Iniziamo dal lunch match Parma-Milan che finisce 1-1. Una partita direi abbastanza stufante, un Milan mediocre che coglie un pareggio che non cambia praticamente nulla in positivo per la lotta Champions. Un Milan mediocre, lento, senza gioco, senza idee contro un Parma che ha tenuto normalmente il campo anche se comunque ha avuto le migliori occasioni nel primo tempo. Rossoneri un po' migliori intorno alla metà della ripresa dove hanno anche trovato il gol con Castiglieco, solo che hanno gestito malissimo la partita e il Parma pochi minuti dalla fine la pareggiata con Bruno Alves. Non approfitta della sconfitta del Milan la Lazio che si dimostra l'eterna incompiuta perdendo 1-2 in casa contro il Chievo già retrocesso. Lazio che con gli atteggiamenti che ha rischierebbe di perdere pure contro il Poggi Bonsi in casa. Lazio che quindi perdendo viene superata in classifica dal Torino. Torino che ha colto una vittoria pesantissima in trasferta 1-0 sul campo del Genoa. In chiave salvezza vittoria del Cagliari 1-0 contro il Frosinone. Con questa vittoria i Sardi direi che sono in una posizione di classifica ormai piuttosto rassicurante. Stesso dicasi per la Spal che ha vinto 4-2 sul campo dell'Empoli nello scontro salvezza. Vittoria da sei punti è stata poi quella del Bologna che ha demolito ha vinto e stravinto 3-0 contro la Sampdoria. Pareggio poi 1-1 tra l'Udinese ed il mio Sassuolo. Un pareggio che per l'Udinese pesucchia perché comunque ha guadagnato un punto sull'Empoli. Per il Sassuolo sì tutto sommato non è neanche così tanto negativo solo che ci siamo fatti raggiungere e dato che questa cosa succede un po' troppo spesso onestamente mi lascia l'amaro in bocca. Poi vedendo un po' gli highlights da vari siti mi sembra che il Sassuolo abbia fatto qualcosa in più senza strafare. Non ha saputo chiudere la partita, si è abbassato troppo negli ultimi minuti e i frulani hanno pareggiato. Nella gara delle 18 poi abbiamo visto la Juve vincere 2-1 contro la Fiorentina e conquistare il trentacinquesimo scudetto nonché l'ottavo di fila. Direi che questa vittoria riassume un po' il modo in cui la Juve ha conquistato questo scudetto cioè impegnandosi poco e con un gioco approssimativo, un gioco senza fantasia, senza creatività e col solito vizio del cazzo di abbassare il baricentro una volta che passi in vantaggio. Però comunque se una squadra vince il campionato in questo modo c'è da farsi due domande sulla sua forza e sulla sua superiorità e direi che la Juve per quello che sta facendo negli ultimi anni merita solamente applausi e va solamente rispettata. Nella posticipo di domenica, di sabato sera, scusate, pareggio 1-1 nel Big Matches, pareggio Champions tra Inter e Roma. Un pareggio che non muta le carte in tavola. L'Inter che ha giocato, ha tenuto più in mano il pallino del gioco solo che le è mancata un po' quella gara, la si è vista solamente tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo dove comunque è riuscita a trovare il gol dell'1-1. La Roma invece è partita bene, è partita col piglio giusto, è passata anche in vantaggio con El Sharawi, poi nel primo tempo comunque ha disputato una buona partita, una partita tatticamente attenta, nel secondo tempo un po' calata, anche se comunque alla fine è stata più lei che l'Inter ad andare vicino a vincere la partita. Comunque sia un pareggio giusto al termine di una partita equilibrata, l'Inter rimane terza, la Roma rimane in corsa per la Champions. Vincendo secondo me sarebbe diventata la favorita per il quarto posto, perdendo invece si sarebbe allontanata parecchio, sarebbe stato anche un duro colpo a livello mentale. Invece ha pareggiato e tutto sommato direi che va abbastanza bene. Infine poi, nell'ultima partita, nella partita giocatasi ieri, l'Atalanta ha vinto 2-1 sul campo del Napoli. Una vittoria importante, importantissima, quella della Dea che la presenta come una seria candidata per arrivare quarta. Una partita emozionante, nei primi 60-65 minuti il Napoli ha attaccato parecchio, ha segnato nel primo tempo con Mertens, ha creato altre occasioni da gol. L'Atalanta sembrava meno arrembante del solito, però comunque è riuscita a reggere. Poi l'ingresso di Ilicic ha cambiato la partita, la Dea ha acquistato una grande carica, la pareggiata non si è accontentata e negli ultimi minuti ha trovato addirittura il gol del 2-1. Atalanta, che dire, bisogna solo farle i complimenti. Una squadra collaudata, una squadra che gioca bene, davvero una macchina da guerra che ha tutte le carte in regola per arrivare quarta in classifica. Va bene ragazzi, questo è stato un po' il riassunto dell'ultima giornata di Serie A, fatemi sapere come la pensate. Io come al solito mi invito a iscrivervi al canale YouTube, iscrivervi alla pagina Facebook, lasciare un commento, lasciare un mi piace. Detto questo vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi! Ciao!